Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Non destra una preoccupazione alle condizioni di Federico Chiesa Si tratta infatti solo di un sovraccarico Dovuto ad alcuni esercizi svolti nel ritiro a Coverciano Come comunicato dalla società Le evoluzioni saranno monitorate costantemente Si punta ad un impiego per la sfida di Coppa Italia Contro l'Atalanta a Bergamo Uno sguardo anche ai Granata Avversari di domenica è legati dalla Fiorentina Da uno storico gemellaggio Compie oggi 29 anni il centrale Nicolas Nkulu E il compagno di reparto Armando Izzo Celebra la sua prima con la maglia azzurra Invece il presidente Urbano Cairo Ha parlato alla Gazzetta Dichiarando ci aspettano 10 partite importanti da giocare bene Per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola